Questa è come si presenta oggi, 26 dicembre 2019. La cosiddetta zona di Ciampa di Cavallo è di nuovo invasa da rifiuti di ogni tipo, soprattutto plastica e polistirolo. Le immagini che vi mostriamo mettono in evidenza un inquinamento che non ha fine. Siamo a San Marzano sul Sarno, qui la conformazione del canale del fiume Sarno crea una sorta di barriera dove si raccolgono i rifiuti. Soltanto poche settimane fa la zona era stata ripulita. Ora è tutto come prima e con il passare dei giorni il tappo di spazzatura crescerà a dismisura se non si interviene con urgenza. Ma per risolvere definitivamente il problema ci vogliono interventi strutturali, oltre ovviamente ad iniziare ad individuare e sanzionare chi getta nel canale i rifiuti. non si esclude che siano le stesse persone che vivono a stretto contatto con il fiume. Infatti i pezzi di polistirolo che galleggiano sull'acqua sono quelli utilizzati dai vivai per le piantine che poi vengono piantate nel terreno. Palloni, bottiglie, non manca niente.